Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo nell'episodio numero 17 Signori, siamo nello stesso punto dove ci siamo fermati ieri, tranne che ieri questo scheletro non c'era e nemmeno quel creeper là sotto Ottimo, ottimo, noi siamo sempre senza un arco e la cosa non mi piace per nulla Signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i giocimenti e per il supporto che date alla serie E niente signori, partiamo continuando l'esplorazione, sperando di non morire male Guarda, guarda che sono carini tutte e due messi lì, che sono simpatici Tutte e due messi lì, solamente che io non riesco a prenderli, mannaggia a loro Ti ho visto, voglio mangiare un pezzettino di pane perché già mi hanno lavato, sono senza due cosciotte e questa cosa non è per niente buona Certo, venire, devi morire, vuoi morire? Il problema è che c'è il creeper, capite? Il problema è grosso che c'è il creeper dietro Quindi se io... ecco, il creeper è stato colpito... ok, calma È morto lo scheletro? No, però... però lo scheletro... Mi sta ammazzando il creeper Questa cosa non è tanto brutta, infatti il creeper si era andato, si è rotto le scatole Detta lo scheletro, ma vatti a fare un bel giro Allora, noi lo scheletro l'abbiamo ammazzato, dobbiamo semplicemente eliminare il creeper Che se viene qua sotto... guarda, lo faccio esplodere proprio perché voglio farlo esplodere Mi vedi? Zio, esplodi Zio, non vuole esplodere Perché non vuole esplodere? Dai, perché no? Sento pure uno zombie Si stanno avvicinando in troppo e questa cosa non mi piace Vuoi morire? La zombie riesce a salire? No, la zombie non riesce a salire nemmeno Oh, finalmente Oh, si è fatta esplodere e si è levato dai tre passi Mamma mia, che persona antipatica Allora, stiamo calmi Dopo una partenza col botto così non me l'aspettavo Fino a ieri nessun mob oggi è il delirio più totale Ok, calma e stanco e freddo Iniziamo a illuminare tutto e a capire un attimino se mi può cadere qualcosa in testa No Ok, mangiamo un panino Anche se non è là No, 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 no Cazzo ora, signore, mi è esploso un creeper alle spalle Ma stiamo scherzando? Da dove è arrivato? Là sotto c'è il delirio Mi è esploso un creeper alle spalle Ma non si fa così Ma meno male che avevamo tutta l'armatura E tutta la salute soprattutto Se no eravamo già morti, signori Allora, questo è un bruttissimo vicolo cieco Se qualcuno viene qui siamo morti Sicuro, sicuro che siamo morti Recuperiamo quest'oro Dai così, però se non sbaglio non ci ha visto nessuno venire qua Quindi possiamo tranquillamente recuperare il recuperabile Allora, torniamo su Di qua Perfetto Allora, la cosa continua di qui Quel creeperone deve sparire il più velocemente possibile Cortesende non esplodere Zia, mi dai la ground powder La polvere da sparo che mi può servire No, 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 no Vaffanze Pezzo di schifo Ok Abbiamo regolato altra redstone Che fondamentalmente non ci serve a nulla Ok Torce Siamo un po' avventati Può essere Può essere Abbiamo voglia di esplorazione Sì, decisamente sì Decisamente sì Troveremo la strada di casa Allora, finora non è troppo complicato Quello che stiamo facendo E quello che stiamo Dove ci stiamo muovendo Negli infratti in cui ci stiamo infilando Solo che Mi sa che la caverna è finita qua Là ci sono dei lapislazzuli Cioè, ma dici vero È finita, signori Finisce qui, così Non ci credo Finisce qui Ma veramente? Cioè, io ero pronto Ero carico Per fare un altro video Di esplorazione Di cose strane E finisce così Non c'è nulla Ma niente di niente Ho rischiato la morte Causa Creeper Per il nulla cosmico È tutto chiuso Sì, signori Niente da fare Niente da fare Possiamo provare a scavare Tentando la fortuna Ma non è detto Che riusciamo a trovare qualcosa di interessante A che livello siamo noi qui? A livello A livello meno 14 A livello meno 14 Possiamo far scendere Vedere se troviamo qualche cosa di più Particolare Ma non penso D'altro non sento nemmeno tanti Tanti mob nelle vicinanze Anche se qui Ci sono dei bug Che mi fanno pensare che ci sia qualcosa qui sotto Aspettate Faccio una prova Niente da fare, signori Io ho provato a scavare un pochetto Ma non si andava da nessuna parte Non c'era niente di interessante Di conseguenza stiamo tornando verso l'uscita Che dovrebbe essere di qua E continuiamo l'esplorazione da sopra Vediamo se riusciamo effettivamente a trovare il villaggio Che è il nostro primo obiettivo, signori Ci proviamo Ci proviamo Ok Siamo riusciti a tornare in superficie E questa è già tantissima roba Allora Il sole è a mezzogiorno preciso Noi Noi Quella non l'abbiamo vista Un'altra caverna, signori Ma siamo usciti dallo stesso punto a dove siamo entrati? Sapete che non lo so Però quella caverna di là non l'avevamo vista prima Esplorazione 2.0 2.0, signori Esplorazione 2.0 Dritti dritti alla meta Senza Senza paura Senza indugio Con le torce in mano Partiamo per una nuova esplorazione, signori Eravamo partiti per una caverna Che ci ha deluso Che ci ha deluso E siamo usciti da una parte che pensavo fosse la nostra uscita giusta E invece era tutta un'altra strada Ma abbiamo trovato un'altra caverna Involontariamente Le cose che succedono involontariamente Sono le migliori Non tutte Non tutte Attenzione Attenzione Non tutte Non facciamo tutte Un fascio Però 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 Se ti capitano delle fortune Bisogna saperle cogliere Quel carbone di lo lasciamo Lì ci sono già dei mostri Noi proviamo a salire di qua Anche se penso che non ci sia niente Non mi fa fare il giro Lo zombie mi segue qui dietro Sento che si sta avvicinando Sento il suo alito pesante dietro di me Là c'è uno scheletro E siamo messi A che cazzarola male Ammazziamo questo zombie Che per forza doveva capire Dove eravamo finiti noi Occhio allo scheletro dietro Allora lo scheletro Se mi troppasse un arco Non sarebbe male No niente Frecce e bombine Frecce e ossa Allora Qui noi già siamo Abbiamo un inventario pieno signori Allora Eliminiamo questo Eliminiamo Questo Eliminiamo questo E così abbiamo quanto meno Tre slot liberi Per continuare l'esplorazione Ok Creeperozzo C'è la tua fratella Nell'altra grotta Sai Ti saluta tanto Ha fatto la stessa fine A brutti bastardi Che non siete altra Allora Torcia Ok Io direi signori Più che andare di là Direi di scendere Come se non ci fosse un domani Perché a noi interessa Scendere Interessa scendere Perché i diamanti Sono sempre a livelli Più bassi Qui c'è del ferro Che però se non levo Sto scheletro Dal mezzo Alle scatole Non possiamo recuperare Ok Tantissimo ferro Signori Tantissimo ferro E tantissimo rischio di morte Qui Perché se qualcuno Si lancia di là sopra Soprattutto un creeper Come è successo Nella grotta precedente Ci ammazza di brutto Il nostro obiettivo Era il ferro Sì Lo stiamo trovando Sì Il nostro obiettivo Era andare in grotta No Il nostro obiettivo Era trovare un villaggio Signori Però 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 Tutto questo ferro Non ci fa Assolutamente schifo Continuiamo a scendere Utilizziamo il nostro Primo pezzettino di carne Perché l'ho messo Un attimino male Ok Spada in mano Le torce ce le abbiamo Vediamo se Quest'altra grotta Ci porta da qualche Altra parte Oppure questa Un Tempo perso No No Forse no Forse questa Non è tempo perso Signori Questa si articola Bene Si articola bene Di là si torna su Ok Non ci interessa Non ci interessa Minimamente Non interessa Scendere giù Ottimo Allora Cosa abbiamo Di qui Carbone Là in fondo Proviamo a scendere Di qua Vediamo che succede Proviamo a scendere Di qua Ok Siamo arrivati All'altezza Dell'Ardetia Quindi siamo Alla stessa Altezza Dove eravamo Con l'altra grotta Ma anche questa Si ferma Qui E non sento Rumori Non sento Rumori Andiamo a provare All'altra strada Proviamo a provare All'altra strada Questa Mi sa che finisce Pure qui Si Niente da fare Che grotta Inutile Signori Che grotta Inutile Uno sperava Uno spera Di riuscire A trovare Qualcosa Di interessante Allora Ferro Ok Redstone Che prendiamo Ci serve? No Ci fa fare esperienza? Sì Quindi La piglia C'è un zombie Mini zombie Cazzaro La mannaggia A te Devi morire Devi morire male Non li sopporto I mini zombie Non li sopporto Signori Devi morire male Non ci muovi Da uno zombie Da un mini zombie Eh muovi un po' Ok Ce l'abbiamo fatta Recuperiamo quest'altro ferro Signori Mi sta dando ferro Come se non ci fosse un domani Ottimo Ottimo L'importante è sempre Non morire Signori Perché se moriamo qua A parte che Sarebbe complicatissimo Riuscire a tornarci Non sarebbe per nulla facile Altro ferro lì Mettiamo una bella torcina Così facciamo luce Ed evitiamo di camminare Al buio Che è tanta roba Tanta roba Sono dei video Di esplorazione Alla grande Dai così Dai così Sto tenendo tante risorse Questo mi fa piacere Allora Qua c'è dell'altro ferro Signori io purtroppo so che sono ripetitivo Ma il ferro lo dobbiamo prendere Se riuscissimo Se non me già uno stack L'abbiamo raggiunto Comunque Un buono stack Se non me già l'abbiamo raggiunto Quasi Quasi Questa però non mi serve Buttala Ci spostiamo velocemente Il carbone Sì Il carbone uno stack L'abbiamo raggiunto Stiamo per fare Nooo Gravissimo 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 Pausa Pausa rapidissima Costruzione del piccone Ho visto che si stava rompendo Ma non c'è Ma non pensavo Si rompesse così subito A colpo di sale Come si suol dire Ok Recorriamo un altro ferro Che tanto Stiamo prendendo tanto Pure se ne consumiamo un poco Non fa nulla Io forse ho sbagliato A portarmi il piccone di diamante Potevo evitare di portarmi il piccone di diamante Perché se dovessimo morire Siamo Siamo nella cacca Di qua c'è niente No Di qua si sale C'è un buchetto Ma niente di particolare Niente di che Niente di che Dobbiamo continuare a scendere Signore Dobbiamo continuare a scendere E proprio quello che vogliamo fare Torcetta qui Anche se non so perché ci fosse la luce L'accia del ferro Che però io lascerei lì Perché abbiamo già due stack Di ferro E dico E già è tanta roba Scendiamo Io ho visto lo zombie Che mi stava inseguendo male Ma non Ah eccolo lì Eccolo lì Che mi stava puntando Eccolo lì Eccolo lì E noi però lo Vai passiamo un attimino Andiamo a vedere da questa parte che c'è Nulla Niente Affrontiamo lo zombie Maledetto Maledetto Non puoi partecipare a questo video Mi dispiace per te E scendiamo di qua Torcetta Torcetta tattica Continuiamo a scendere Signori E' bella grossa E questa Questa si Questa può darci soddisfazioni Riuscissimo A trovare diamantozzi Sarebbe Il top Signori Riuscissimo a trovare dei diamanti Sarebbe il top Continuiamo a scendere Continuiamo a scendere Non so che livello siamo E attualmente non mi interessa più di tanto L'importante è che scendiamo E che troviamo Cose da fare Di qua Si gira Ma non c'è nulla Ok Tutto chiuso Sì Tutto chiuso Sì 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 Tutto chiuso Tutto chiuso Da questa parte Torcetta tattica Quante torce abbiamo? Ancora tre torce Fermi No 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 Ci sono gli scheletri Nascondiamoci un attimo Torcette tattiche Signori Perché senza torce Noi non andiamo da nessuna parte Ok Questo lo mettiamo qua E questo lo mettiamo qua Eh Li affrontiamo così O mangiamo? Sapete che era Una cosa intelligente Era farsi lo scudo Farsi lo scudo Oh No 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 Ma sono tantissimi Ma sono tantissimi Ma sono tantissimi Dobbiamo mangiare per forza Signori Se no ci schiattiamo male Ma ce n'erano tantissimi Ma ce n'è già un altro Che mi sta puntando male Spada Ok Calma Calma Aia 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 Siamo 1 a 1 Siamo 1 a 1 Ai ai Maledetto Mori Maledetto Bastardo Recopriamo le ossa Perché le ossa ci servono Come bombille Signori Anche perché Ho in progetto di fare Una cosa Un albero enorme E mi serve il bombille Liscio Lì Mi ha preso Stavolta Pensavo di sciassi No E invece Mi ha preso Dai Ok Uff Scontro con gli scheletri Vinto Ok Stiamo un attimino A mi stimare col cibo Però non ha importanza Signori Male che vada Abbiamo buttato La carne zombie Che effettivamente Potevamo tenerci Per 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 le situazioni Di necessità Per le situazioni Di necessità La carne zombie La potevamo tenere Però va bene Allora di là si va Ma a noi non interessa Noi vogliamo continuare A scendere Se il gioco Ce lo permette Ok Scendiamo E illuminiamo Scendiamo E illuminiamo Scendiamo E illuminiamo Altro oro Va bene Però lo lasciamo Lì loro Lì c'è un altro scheletro Fatemi mettere una torcetta qua Lui ancora non mi ha visto Mettiamo una torcia sotto Così è ciecato E ci vede Ora lui dovrebbe impazzire Volerci Venire a prendere Oh Ci ha colpito già due volte Il bastardo Mori Mori un po' Mori un po' Mori un po' Ok Mangiamo 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 Ok Tante frecce Oddio un arco Sei frecce abbiamo Quattro pezzi di bom mille Ok Spada sempre in mano Torniamo giù Illuminiamo Illuminiamo E quasi continua a scendere E' un diamantozzo E' un diamantozzo Abbiamo trovato un diamantozzo Signori Grandi così Grandi così Abbiamo trovato un diamantozzo Bello 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 Occhio sempre Che non ci siano creeper Perché volino Andiamo a recuperare Quel diamantozzo Non so a che livello siamo Però di qua la caverna Potrebbe anche continuare Di là se non è continuo In maniera pesante Ma noi proviamo A continuare a scendere C'è un lago di lava Davanti a noi Ok Diamantozzo dove stava? Diamantozzo dove stava? L'abbiamo visto dalla sopra Stava qua sotto il diamantozzo Oh Datemi il diamantozzo Eccolo qui signori Mamma mia Che lago di lava Che c'è Là c'è La morte più totale Altri due diamantozzo Signori Checkpot Checkpot Signori Checkpot Me ne dai più di uno? No Me ne dai uno solo Mannaggia a te Mannaggia a te E la tirchiaggine di questo gioco Ok Calma Calma Che quelli Tra un poco Li attireremo E verranno verso di noi Facciamo il giro Coti-coti E mettiamo qualche torcia In più Ok Anche torcia qui Questo video sta durando Tantissimo Quindi direi di Lo zombie già ci ha visto E ci sta puntando Lascia un altro diamante Signori Mamma mia che fortuna Che benessere Ma che benessere Ma che benessere Facciamo fuori questo zombie Che è solamente una brutta perdita di tempo Zombie Deve morire Deve morire male Deve morire male Deve morire male Recuperiamo la sua carne zombie E mangiamocela Che sicuramente Non mi farà bene Per me Dove far recuperare dei cuori Speriamo Ce n'è più di due Signori Ce ne fossero più di due Sarebbe tanta roba Dai No Ce ne stanno solamente due E va bene Uno E due Va bene Già siamo a tre Già siamo a tre Signori Tre diamanti Tanta roba Là c'è un altro Recuperiamo Recuperiamo anche quello Signori Recuperiamo anche quello Sempre occhi alle spalle Perché lo sento Lo zombie Mannaggia a te Il festival dei diamanti Signori Avessimo avuto un piccone Con fortuna E ci divertivamo A sto giro Ci divertivamo Signori Però non è detto Non è detto Non è detto che comunque Un giorno Non riusciremo a trovare Altri diamantozzi Così in giro Per il mondo E a portarceli a casa Allora Vediamo se intanto Qua sotto Ce la lava Perché se ce la lava Sono due Sono due Che benessere Che benessere No Questo non lo romperei Sono due Recuperiamo Recupera Recupera Uno Dai così E due Dai così Signori Cinque diamanti Cinque diamanti Bellissimo Nel giro di pochissimo Tra l'altro Nel giro di pochissimo Vediamo questa redstone Che comunque ci fa Fare esperienza Così quando torniamo A casa Possiamo anche Vedere veramente Di fare un bel tavolo Degli incantesimi E fare Avere progresso E avere progresso Allora L'accio Un creeper L'accio Dell'oro Che però Non ci interessa Ma io Signori Per questo video Mi fermerei Qui Decisamente Sì Decisamente Sì Il festival De diamanti Il festival De diamanti Detto questo Io vi ringrazio Per aver guardato Questo video Qua stanno arrivando Tanti zombie Che da un lato Ci possono tornare utili Sì Volendo sì Perché ora Mi miangio Tutta la loro carne Zombesca Io sto andando indietro Nella direzione Del creeper Ed è una cosa Sbagliatissima Perché Con cosa Ti sto ammazzando Mori un po' Ok Là c'è uno scheletro Qua c'è un altro zombie Mori zio Io sbaglio A fare così Clicche veloci Perché Giustamente Non riesce A dargli Mannaggia E sta arrivando Pure lo scheletro Perfetto Perfetto Il festival De mob Praticamente Mori un po' Ok Siamo in un attimo In una zona sicura Sì Perfetto Questa buttala Mangiamoci tutta Sta carne Zombesca Così vediamo Di recuperare I cuoricini Senza dover Per forza Affrontare Doverci mangiare La nostra bellissima carne Signori Detto questo Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per i suggimenti E per il supporto Noi ci vediamo Con una bella freccia Nell'occhio precisa Sempre qui sul canale Per continuare L'avventura Di questa carolta Signori Siamo a 5 diamanti Sì sì Bellissima Bellissima Per i suggimenti